Signore e signori buongiorno, ci troviamo al campo sportivo San Paolo di Basto, oggi è domenica, 6 maggio 2018 per la quinta gara della seconda fase del campionato categoria allievi provinciali, questa è la quinta giornata Vastese Calcio 1902, Virtus Castelfrentano, da questo lato con la classica maglia giallorossa c'è la Virtus Castelfrentano qui sono i ragazzi del blocco degli titolari, mentre chi intossa la casacca partirà con la pancina da quest'altro lato c'è la squadra della Vastese Calcio 1902, campo in erba sintetica ecco qua vedete il campanile della chiesa San Paolo che ce l'abbiamo di fronte qui c'è il pubblico qua c'è il mister Gabriele con il dirigente Massimo Nasuti, il papà di Cristiano, il nostro capitano ok il direttore di gara è il signor Romano della sezione AIA di Chieti o di Lanciano, mi pare di Lanciano fra pochi minuti ci sarà l'ingresso in campo, le ore 11 è previsto l'inizio della gara è una gara difficile, la Vastese è una squadra ben quadrata e lo dimostra la classifica qua ci torniamo dopo 4 anni in questo campo in quanto il primo anno con gli esordienti la maggior parte c'è lo gioccoloburo di oggi che fanno gli allievi, siamo venuti qua nel 2014 con gli esordienti sempre in questo campo ecco non c'è le ripete l'arbitro sta chiamando a raccolta per l'entrata in campo alla prossima ripresa con l'entrata in campo